Musica Connicio ragazze sono tornata con un nuovo video se mi vedete in una location diversa è perchè mi sono trasferita e nel posto dove sto ho trovato parecchie cosine carine da assaggiare e da farvi vedere la prima cosa che vi faccio vedere sono tutte cose dolci e la prima cosa che vi faccio vedere è questo qua sono i pochi banana e tipo banana e vaniglia vabbè banana oh mio dio banana e vaniglia ok allora pochi questo qui buonissimo assaggio ci sono tutti questi granellini però non capisco cosa siano è tipo banana dentro non vuole sono troppo buoni poi un'altra cosa che ho comprato sono questi qui quello panda a fragola che parecchi già conosceranno apriamo la scatletta e questa qui la bustina mmm di fragola oh che carino la formina del panda oh ma vediamo ognuno ha un disegno diverso oh che bellino assaggiamo mmm quant'è buona è tutto fragoloso la cremina fragolosa dentro questo è troppo buono quanto è buono quanto è buono la saggia la saggia mmm buono buonissimo approvato approved un'altra cosa che ho comprato sono questi qua che sono gli orio a lampone assaggiamo anche questi assaggerò praticamente tutto mi farò obesa mi farò obesa e sono un assaggio oh mio dio che odore di lampone oh mio dio ovviamente io rio sono sempre il solito rio solo che la cremina dentro è rosa adesso ve lo apro ta ta la crema dentro è rosa assaggiamo mmm mio dio sono una cosa allucinante puoi assaggiare mmm è tutto troppo buono ok ovviamente anche questi sono iper super approvati poi 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 cosa possiamo assaggiare allora poi però voglio far vedere prima cosa dove sto e penso che da questo lo capirete però non ve lo dico ho comprato questo pacchetto di M&M's questo qui tutto colorato vi faccio vedere anche la busta eccola qua questo pacchetto qua di M&M's che sono le comuni M&M's con le noccioline dentro quelle normali buonissime allora poi un'altra cosa che ho comprato sono questi qui i penguin era una busta così grande ce ne erano parecchi dentro al toffee questo qui penguin toffee e adesso assaggiamo anche questo mmm l'odore di toffee è pazzesco wow questo qui c'è una cremina praticamente dentro che è il toffee ed è buonissimo riesce a farmi un pochino la bocca ma ci sono altre due cose dopo che vi voglio mostrare assaggio questa qui la coca cola cherry e la coca cola a ciliegia quindi assaggiamo mmm sa di ciliegia in una maniera incredibile ed è buonissima almeno per me che adoro le cose così particolari mi piace tantissimo poi un'altra cosa che ho trovato e sono hyper super mega felicissima sono i Reese's cosa sono i Reese's sono dei cioccolatini con dentro ripieno di burro d'arachidi quindi sono una bomba ne ce ne sono tre dentro e adesso ne vado a provare uno è la mia prima esperienza con i Reese's quindi adesso le assaggiamo ecco qui allora Reese's si presenta dentro a questa carta così adesso oh mio dio c'è il burro dell'acchi dentro non so se si nota la mia faccia ma è una cosa pazzesca se volete diventare obesi comprate Reese's è una cosa di fenomenale so good allora un'altra cosa che ho trovato in un negozietto ecco lo stavo cercando da tantissimo tempo quando stavo in Italia ho visto parecchi video ho cercato anche su internet ma costava tipo un occhio dalla testa adesso l'ho trovato ed è il rameone ora vi mostro come funziona allora qui si apre è molto particolare perché vedete vedete che è una bevanda normale praticamente però ha la particolarità penso che tutti voi lo sappiate se amate il Giappone ha la particolarità probabilmente che ha questo tappino questo qui che voi schiacciate e qui c'è la pallina adesso vi metto la telecamera sulla scrivania e vi faccio vedere ok ecco il tappino questo qui è la pallina dobbiamo fare parecchia forza ed ecco qui è uscita la pallina adesso guardate la pallina eccola qui ed è diventato quindi frizzante adesso lo assaggio vi faccio sapere com'è questo quindi è il rameone adesso la vado ad assaggiare mmm è praticamente una gazzosa frizzante solo che la particolarità ovviamente è questa pallina che sta qui ecco qua adesso si vede meglio ecco la pallina quindi questo era tutto di tutte queste cose che ho assaggiato in tal caso se compro quindi qualche altra cosa o anche di vestiti dove sto vi faccio vedere quello che compro niente vi mando un bacione fortissimo spero che questo video vi sia piaciuto vi abbraccio tutte noi ci vediamo quindi ad un prossimo video spero di avere tempo per girare altri video che perché qui dove sto non ho molto tempo perché ho tantissime cose da fare e quindi vi mando un bacio un abbraccio a tutte e noi ci vediamo in un prossimo video grazie a te